Ciao Kumari, come vi chiamo? Ehi, sono qui stai facendo questa videochiamata con questi telefonini tecnologici che fanno tutte cose, si si con i vostri surf, come voi chiamate voi e si, fate questo video messaggio, vi stai salutando che pure io, Kumari, mi scrivono a cazzbook ah, come dice Kumari, non si dice cazzbook, si dice facebook vabbò, ma sempre cazzate scrivono e noi, Kumari, era a cazz, mi dice, mi scrivono a facebook come dice voi, e mi arrivano tanti notifichi mi arrivano richieste di amicizia infatti mi arriva una richiesta con un video messaggio in un giovanotto, che mi mandasse un video messaggio e mi disse, nonna, quanto sei bella quanto sei carina e quanto sei buona vorrei tanto provare la tua patata e io, Kumari, si dice un video e si stai dicendo, sto giovanotto chi è patata vuoi? vuoi una grande? vuoi una piccolina? avevo cruda? avevo cotta? avevo mundata? come avevo a bello? eh? e come dice la canzone Kumari l'unico frutto dell'amore è sta patata è sta patata Kumari, manculi cani Kumari, manculi cani manculi cani manculi cani arrivederci Kumari